che durante questo venerdì nero potete dormire fino a da tutta la regione rendendo l'influenza stagionale in anticipo sembra si tratti di una variante sconosciuta dell'influenza. Molti esperti non sanno cosa fare. Mi sentivo un po' strana e così ho deciso. Secondo alcuni quotidiani ci sono segnalazioni non confermate. Siamo preparati per una lieve epidemia di vaiolo. Il vaiolo è un pericolo reale. Non è una situazione di emergenza. Una città americana completamente isolata. Noto come veleno verde. Central Park è diventato un punto di sepoltura di massa. Interruzioni di corrente, fuori di gas, incendi. Sembra che prevede un'altra nottata di saccheggio selvaggio. Gli abitanti di New York chiedono. Dove era la fonte? Qualsiasi unità disponibile. Incendio a Houston e Pete. Molti dei primi soccorritori sono morti. Nessuna risorsa disponibile. Ci trattano come animali. Non è il nostro lavoro. Non siamo addestrati. Quando siamo stati attivati, la situazione era critica. Peggio del previsto. Siamo un'elite, agenti segreti altamente addestrati. Ci chiamano solo quando non c'è più speranza. Non abbiamo regole. Non abbiamo limiti. Dobbiamo proteggere ciò che rimane. Siamo i tuoi colleghi. Siamo i tuoi vicini. Potremmo essere i tuoi amici. Ma quando ci chiamano, ci lasciamo tutto alle spalle. Noi siamo la divisione.